Cristina Tamborra Lucia Parise Stefania Aprile Barbara Stresan Barbara Stresan Senta professore Sì, dica Come mai hai scritto una canzone con delle strane parole che non dicono niente? Chi? Lei Beh, vede ragazza? Qual è la telecamera? È questa, sì Io ho capito che oggi nel mondo non ci capiamo più Proprio è difficile, cioè non c'è dialogo ormai È rimasto solo lo sguardo, un po' afflitto E quindi ho ritenuto opportuno fare una canzone sul tema, cioè sviluppando il tema dell'incomunicabilità Cioè noi non comunichiamo, siamo income Capisci? Grazie Che era una vecchia cosa, un telegiornale che c'era anche prima Adesso... Grazie No, stia in piedi per favore che non ho finito di parlare E stavo dicendo che ho voluto sviluppare questo tema dell'incomunicabilità Lasciando come riferimento una sola parola che è appunto Prese and call in ensina in chiuso Che vuol dire amore universale Quindi se voi dovete fare un gesto d'amore verso qualcuno Non c'è rimasto più nessuno, sono solo io Basta che diciate Prese and call in ensina in chiuso E tutto Va da giù Prese and call in ensina in chiuso You the call may say one Prese and call in ensina in chiuso All right Prese and call in ensina in chiuso We the stai in chiuso Now, hon we'll be the same Then a hole and red never get the kind of box died Well, this is chain might If you look on be stin You never trouble, never judge The cause baby's the chain You the common, not choose No bright, but not sure Hold the home or just kidding La morte probably not fine Grazie a tutti 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 Guardi madre che queste riviste me le ha date Annibale Sì, lui dice che per guarire bisogna aver voglia di vivere E per aver voglia di vivere bisogna pensare alle donne Ma chi è questo Annibale? Un medico? No Non so, un infermiere? No Un malato? E allora? Allora, Annibale è Annibale Cosa ha fatto il corridoio? Deve andare in corsia? Chi l'ha autorizzata a stare in corridoio? Annibale per caso? No Annibale sono io Ah, sì che Annibale sarebbe lei Precisamente Annibale per esempio E' un'altra cosa? No E' un'altra cosa? E' un'altra cosa? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.